Mi fa molto piacere essere qui e mi fa piacere perché è noto una differenza rispetto al passato, vale a dire, chi magari mi seguiva come editorialista su Il Giornale, Il Giornale non l'Unità, sa che io scrivo di flat tax dal 2006 circa e nel di mezzo il proprietario del Giornale è stato anche al Governo con una discreta maggioranza, ma chissà perché non la faceva mai e io continuavo a scrivere, facciamola, facciamola, eppure non veniva mai fatta. Chi bisognava aspettare perché il dossier venisse preso in mano in maniera finalmente realistica e concreta fino a farne una presentazione di punto ufficiale del programma, guarda caso lo stesso che, sempre per quello che riguardava altri punti che io così scrivevo perso nella notte, vale a dire, primo fra tutti l'euro, ha deciso che forse c'era un fondo di verità, forse quello che si faceva era sbagliato, andare avanti a copiare la sinistra sulle cose che faceva lei però dicendo ma però noi facciamo magari un pochettino meglio, un pochettino di quella follia che tutti noi abbiamo bisogno di avere ogni tanto, perché altrimenti il germe del conformismo, il germe del ma tanto non si cambia mai, il germe così come correttamente Armando ha detto prima nell'intervista, devono cambiare gli altri, prima o poi cambieranno gli altri, alla fine ce ne vuole uno che sappia iniziare lui a cambiare le cose e quindi quando è arrivato Matteo Salvini le cose sono cambiate e vedete che non sono cambiate e non cambieranno solo per la Lega Nord, cambieranno per tutta l'Italia, perché per una volta abbiamo una persona che invece di dire ma tiriamo avanti, dice le cose le ribaltiamo come un calzino, perché questo paese non ha bisogno di piccole correzioni, ha bisogno di una rivoluzione e questo è quello che vogliamo fare, quindi quando la prima volta abbiamo iniziato a elaborare quello che avrebbe dovuto essere poi dopo il programma economico della Lega Nord insieme con Matteo Salvini abbiamo disegnato una somma di punti che si tengono tutti l'uno con l'altro e di cui noi vi abbiamo rivelato soltanto poco, perché tutti questi punti man mano devono essere digeriti, perché non sono semplici, non era semplice spiegarvi l'euro, non era per niente semplice, immaginate, era un momento con una campagna elettorale alle porte, con il rischio di rimanere fuori, di scandali, c'era di tutto, andare a parlare di euro non era la cosa più normale, eppure abbiamo detto ma se il primo punto, se il punto centrale, se la questione attorno al quale tutto il resto ruota è questa, armiamoci, prendiamo il coraggio a due mani e spieghiamo questa cosa, e alla fine si scopre che gli italiani sono molto meglio di quello che cercano di dipingerci, approfittando poi ogni volta che c'è qualcuno dei numerosi scandali per gonfiarlo in maniera incredibile, in modo tale da far credere che siamo tutti corrotti, che siamo tutti dei minus abens, invece in questo paese, quando giriamo, l'altro giorno eravamo con Matteo a Brescia a girare per imprese, io quando entro dentro in un'impresa che produce cose all'avanguardia mondiale e che fa fatica e che potrebbe essere invece un leader mondiale se fosse messo dentro in condizioni di competere. Resiste? E beh, mi fa capire tutto, gli altri scandali, le altre cosine trascolorano, perché fa capire che gli italiani veri a cui noi vogliamo parlare sono quelli lì, e ce ne sono, e ce ne sono tanti, e devono essere messi in condizione di camminare. E allora cosa succede? Il primo pilastro è stato l'euro, il secondo pilastro che adesso vi mostriamo è appunto la flat tax. Altri ce ne saranno, ma sono tutti collegati. Si può resistere con la flat tax rimanendo nell'euro? No. Perché nel momento stesso in cui noi avremmo più consumi, più possibilità, al momento stiamo bene, ma andremo a comprare prodotti esteri. Quindi non risolveremo del tutto i nostri problemi. Tutto si deve tenere. E la nostra proposta è dettagliata e precisa, perché noi facciamo le cose bene, non facciamo degli slogan, non diciamo eh vabbè, lo dicono anche loro, facciamolo anche loro, non facciamo come Grillo che dice all'euro, facciamo il referendum, che significa non voler uscire, perché sappiamo benissimo che non è possibile e non è praticabile, e quindi si perde tempo. Noi diciamo come si deve uscire per uscire dall'euro. La flat tax, non diciamo una cifra a caso e non siamo qua a fare la gara a chi la spara di più. Uno potrebbe pensare, eh mi hanno detto 15% perché vogliono fare la gara al ribasso con gli altri. No. Possiamo cambiare, possiamo cambiare perché ci sono due parametri alla flat tax. Tutti guardano l'aliquota, ma c'è l'aliquota e la deduzione. Se uno dice 20.000 euro di deduzione, sta dicendo una sciocchezza, perché non sta in piedi. La nostra sta in piedi, sta in piedi al millimetro. E qui mi rivolgo ai giornalisti. Prendete lezione, quelli di voi di buona fede, prendete lezione a quello che è successo nei giorni scorsi con questa proposta. Perché purtroppo buona parte dell'informazione pattumiera in Italia viene fuori proprio da situazioni come quella che è successa l'altro ieri. Vale a dire, si prende un economista che purtroppo stimavo, stimavo, gli si fa mettere dei numeri a caso, con degli errori grossolani, in modo tale da far venire fuori un numero che suoni bene, 100 miliardi di ammanco. Io lo chiamo subito e gli dico, guarda che sbagli clamorosamente, sia nel metodo che nei numeri. I nostri numeri non sono quelli che hai detto tu. Sono dispostissimo a darteli. Non voglio sentire. Sei rifiutato di ascoltare la spiegazione ufficiale dei numeri. Perché bisognava mettere quel numero lì, quei 100 miliardi di ammanco che entrassero nel circuito dell'informazione, che se ne parlasse. E guarda caso poi dopo arriva il guitto, il crozza di turno, che serve per portare una roba che invece sarebbe militario alla plebe, in modo tale che si sappia che è una sciocchezza, che è una cosa su cui ridere. Perché niente deve cambiare. L'unico mondo che va bene è quello del PD, l'unico mondo che va bene è quello di Renzi, le sue balle vanno bene, le verità degli altri sono ridicole. Beh, signori, io non voglio andare nel dettaglio. Comunque, se uno vuole, ci sono numeri a profusione. Però, giusto per capire quanto è serio questo modo di procedere, il fatto che il Signore abbia detto che 5.000 euro la deduzione l'abbia moltiplicata per 60 milioni di persone, dato che la deduzione è 3.000, significa un errorino di 120 miliardi sull'imponibile. 2.000 per 60 milioni di persone, 120 miliardi. Dato che si dimentica che già adesso ci sono 25 miliardi di deduzioni e non le ha messe nel suo conto, sono altri quindi 25, siamo a quota 145 di errorino di grandezze. Dato che non sa a che platea si applica la nostra flat tax. Perché, capite che se l'intento è far emergere l'imponibile nascosto, è far emergere l'illusione, è far emergere l'evasione, è ovvio che le pensioni sono fuori da questo perimetro. Lo Stato è lo stesso che tassa sulle pensioni, è una partita di giro. Le pensioni vanno riformate in un'altra maniera, vanno alzate le pensioni di quelli che hanno pagato una marea di contributi, vanno abbassate quelle come, non so, un tal signor Bonanni, all'ultimi anni della sua carriera si è fatto regalare uno stipendio da 300.000 euro all'anno, in modo tale che per sempre a voi spetti mantenere lo stesso stipendio faraonico a vita e possibilmente anche a morte, se per caso poi la signora gli sopravvive. Ebbè, ma perché è così? Quindi le pensioni è tutto un altro mondo. Io voglio far emergere l'imponibile, voglio far emergere chi evade. E poi, quindi, togliendo le partite di giro dello Stato, vale a dire, di quando lo Stato paga qualcosa e se lo riprende subito, significa che sono 19 milioni di persone in meno che non rientrano nell'applicazione della flat tax. Sulla deduzione calcolata dal signor Daveri, perché diamo un nome a questo simpatico economista che ha fatto queste lievi imprecisioni e che soprattutto in maniera eticamente discutibile non ha voluto ascoltare i dati veri. Perché se tu vuoi la verità, ascolti i dati veri. Se tu non la vuoi fare, sei in malafede. Allora, questo signore, 19 milioni di persone di platea differente, per la sua deduzione sono 95 miliardi. Aggiungiamo quindi agli altri 145. Poi dopo abbiamo, perché sa, lui ha tolto le deduzioni a tutti, 60 milioni di persone. Ora, senza andare a fare ironie sul fatto di bambini di un anno e cose di questo tipo, però dovrebbe sapere, dovrebbe sapere, se è un economista, che allo Stato attuale ci sono 11 milioni di redditi a zero. Vale a dire, la parte esentata in questo momento dal pagamento delle tasse. Perché dice che non guadagna, guarda caso, stranamente. Sono 11 milioni. E quindi che deduzione vuoi dedurre dal reddito zero? Vale 55 miliardi. Quindi questo simpatico signore, sommando tutte queste voci di lievi imprecisioni, ha sbagliato di una grandezza di 295 miliardi. Un record! Cioè, per tirare una balla da 100 miliardi ha sbagliato di 300. E voi, della stampa, dovete dar credito a queste persone. Signori, fate una cortesia. La mia faccia è qua. Ogni volta che avete il dubbio di qualcosa, prendete, tirate sul telefono, mi scrivete su Twitter, vi rispondo. Altrimenti, se volete scrivere dei numeri a caso, è perché siete contro il cambiamento e siete al servizio di qualcuno. E mi spiace, ma essere al servizio di qualcuno non fa onore alla professione di giornalista di cui io mi onoro di averla tessera. Chiaro? Quindi, se vogliamo, perché con la Lega purtroppo succede spesso questa cosa qua, diciamo le cose e poi si inventano. Perché fa più comodo inventare, fa più comodo mettere in burletta, fa più comodo pensare o scherzarci sopra invece di pensare che qui c'è un partito che sta pensando di cambiare veramente le cose, che ha cambiato se stesso e che è pronto a cambiare anche tutto il resto. Quindi vediamo di pensarci su un po' bene. E poi un'altra cosa vorrei che i giornalisti riportassero da questa giornata. L'obiezione che tireranno subito tutti è lo schemino quello che dice, eh ma questo ci guadagna un po' di più, quest'altro ci perde un po' di meno. Signori, siamo in un posto dove dati del Ministero delle Finanze dice che il lavoratore dipendente paga in media 19.810 euro dichiara, 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 non paga, dichiara in media 19.810. Il capo del lavoratore dipendente dichiara in media 18.170. Quindi converrebbe probabilmente al capo del dipendente farsi assumere da se stesso, in modo tale da poter avere un piccolo aumento. Quindi se noi andiamo a prendere, prendiamo, oh poverino, quello che dichiara strutturalmente 6.200 euro all'anno e c'ha una famiglia di cinque persone, questo magari non ha un grosso vantaggio mentre invece il ricco ce l'ha. Ecco signori, se uno dichiara strutturalmente 6.000 euro all'anno e c'ha una famiglia di cinque persone, magari c'ha... è un evasore! Di che stiamo parlando? Cioè, quello che noi dobbiamo fare è proprio correggere questa stortura e a zerare questi 11 milioni di redditi zero, perché alla fine, guarda caso, da tutta la somma delle dichiarazioni dei redditi emerge un simpatico dato, che l'80% dell'IRPEF è pagato da lavoratori dipendenti e pensionati. L'80%. Quindi, quando io propongo la flat tax, sto proponendo una cosa semplice e che non è di destra, signori, che non è a favore dei ricchi. Sto proponendo di far pagare di meno ai lavoratori dipendenti. Sto proponendo di far pagare di meno agli onesti. È di destra proporre di far pagare di meno agli onesti compensando questo minor pagamento con altre persone che, in buona o in cattiva fede, fino adesso non hanno contribuito al gettito fiscale italiano. È di destra o è di sinistra? Non solo. La stragrande maggioranza di questi lavoratori dipendenti, come gettito, è qua al nord. Mi sto snaturando io, come Lega Nord, se invece di dire parliamo solo di autonomismo, di federalismo, che pure sono nel nostro DNA e che devono essere mantenuti, sto parlando di una cosa che sgrava principalmente le spalle dei lavoratori del nord. Io sto pensando, credo che sia una cosa molto leghista. Eppure i numeri cantano, i numeri cantano e ci dicono che se noi facciamo una cosa del genere avremmo una liberazione di risorse derivante non da un gettito maggiore o un gettito minore, dal recupero di quello che non c'era. Non sto parlando di penalizzare uno, come quella mentalità della sinistra che gestisce le cose sulla base del bilancio dove se io prendo dalla tasca di qualcuno devo mettere nella tasca dell'altro e viceversa, alimentando odio nei confronti degli italiani fra loro stessi. Loro godono nel vedere le nostre divisioni, godono nel dire io do gli 80 euro a quelli che sono i miei amici ma li tiro via da quelli che hanno la casa che invece mi stanno antipatici. Creano divisioni. Non va bene. Non va bene. Io vi faccio solo questo esempio giusto per capire, poi ripeto, se volete numeri dettagliati e così via sono a disposizione, dettagliati. Se volete anche dettagli perché, sa, poi uno dice, eh ma dopo i crediti d'imposta, sì c'è anche su cosa succede per i crediti d'imposta già maturati. Abbiamo tutto, tutti i dettagli sono a disposizione. Facciamo le cose seriamente e il fatto che abbiamo qua Rabushka è una prova. Ma vi racconto soltanto un'ultima storiellina giusto per capire se è di destra o di sinistra che racchiude la filosofia di quello che vogliamo fare noi. Ed è una storiellina di uno Stato dove ci sono undici persone. Dieci guadagnano dieci e una guadagna cento. E questo Stato ha una flat tax al venti per cento. Bene, chiunque guadagna dieci paga due di tasse, chi guadagna cento paga venti di tasse. Totale gettito quaranta. Ricordatevelo, eh? Queste undici persone hanno un gettito fiscale di quaranta con cui pagano i servizi, la sanità e così via. Al certo punto arriva il PD in questo simpatico mondo e dice no, non è giusto, i ricchi devono piangere e quindi facciamo che quello che guadagna cento lo tassiamo al cinquanta per cento. Questo se ne va. Perché qui fanno tutti gli sceriffi di Nottingham e si dimenticano che confiniamo con Monte Carlo. Il ricco sarà mica fesso a passare alla foresta di Sherwood quando c'è il Monte Carlo di fianco. Questo se ne va. Rimangono i dieci. Però quaranta di gettito li devi sempre tirar fuori. Allora cosa fai? Prendi quello lì che guadagna dieci e lo tassi al quaranta per cento. Risultato gettito quaranta per cento. Gettito quaranta uguale. Ottenuto come? A voce tassando il ricco. in pratica spremendo il povero che guarda caso è esattamente quello che vi sta e ci sta succedendo esattamente in Italia da tanti anni a questa parte. a un certo punto invece arriva un fulmine di vino e secca il PD e arriva invece Salvini. si portano via le ceneri di Renzi, Monti, Letta con lo scopino e arriva Salvini che dice ma facciamo il dieci per cento. Tutti oh disastro cosa stai facendo? Ecco non solo torna quello del reddito di cento che se ne è andato via ma arrivano due suoi amici. E guarda caso con il reddito a dieci adesso abbiamo quelli che pagavano dieci adesso invece pagare venti pagano dieci e danno dieci di contributo. I tre che guadagnano cento danno trenta di contributo in totale. Totale sempre quaranta facciamo. È di destra? Abbiamo aiutato i ricchi? Abbiamo fatto un favore? Abbiamo fatto pagare di meno la povera gente? Abbiamo fatto pagare di meno la povera gente? E la nostra povera gente è il ceto medio che continua a tirar avanti la carretta. Se ci sono più persone la carretta si tirà meglio. Se noi non capiamo che bisogna fare in tante cose il contrario di quello che ci fanno costantemente credere con i loro media e con le loro tattiche di disinformazione continue e costanti di cui vi ho dato un esempio prima non ne usciremo mai ma possiamo uscire. Possiamo uscire dall'euro possiamo uscire dall'incubo delle tasse e usciremo anche da tanti altri incomodi che vi riveleremo in futuro. Come fare? Perché il nostro disegno è complesso. È difficile da spiegare? Arriveremo da tutte le parti ma l'Italia la rivoluzioniamo o moriamo? Grazie.